Buongiorno, sono Laura della Race Nautica Marine, importatore per Toscana, Lazio e Sardegna della famiglia Fontanpajot e sono a bordo del nuovo Tanna 47 che è l'ultimo modello della casa Fontanpajot che presentiamo in anteprima a Cannes 2021. Questo catamarano allungo 13,94 m e allargo 7,70 m e raccoglie un po' tutte le migliorie che ci sono state nel tempo nei vari modelli degli atti catamarani e rispetto al precedente modello monta una serie di pannelli solari che riescono a soddisfare fino a 1600 W di potenza. Anche nel Tanna 47 possiamo montare la spagetta idraulica, ovvero la possibilità di mettere il tender direttamente ma aspettate che farlo simulare fino a una profondità di 25 cm dal livello del mare. Il pozzetto non presenta particolari differenze rispetto al modello precedente, quindi abbiamo la possibilità di avere un bado in giù. Abbiamo la possibilità di avere un doppio frigo e una prolunga al tavolo che consente di allungarlo fino alla seduta posteriore del pozzetto. Questo modello consente di avere una maggiore autonomia sia per quanto riguarda l'acqua che per quanto riguarda il gasolio. Infatti monta due serbatoi da 350 litri ciascuno per quanto riguarda l'acqua e due serbatoi di 470 litri ciascuno per quanto riguarda il gasolio. Quindi consente di avere un'autonomia molto elevata in vista anche di lunghe cucieri. Una delle principali caratteristiche di Fontanpageau è l'apertura al libro di tutte le parti che riguardano l'ingresso principale. Tra il pozzetto e la dinetta in modo da avere un ottimo open space. Rispetto al modello precedente vediamo che nel Tanna 47 non c'è più l'isola che praticamente delimitava un po' i vari spazi di leading in dinette. è stata sostituita da questo meraviglioso divano che consente, tipo schoas long, che consente di avere una maggiore vivibilità all'interno dell'aria. Nel Tanna 47 possiamo avere due tipologie di comunicazione. La prima denominata maestro che praticamente comprende tre cabine e tre bagni e uno scafo interamente dedicato all'armatore e la configurazione quintet che è costituita da cinque cabine e cinque bagni. Ottima soluzione anche per le società dedicate al charter. Ottima soluzione anche per le società di che è un ulteriore punto di forza per quanto riguarda il nuovo modello Tanna 47. Infatti come possiamo notare abbiamo il divano che copre gran parte della superficie dell'area e un divano, un prendisone matrimoniale che consente di vivere questa area in maniera ottimale. Ottima soluzione anche per le società di vivere questa area in maniera ottimale. Ottima soluzione anche per le società di vivere questa area in maniera ottimale. Ottima soluzione anche per le società di vivere questa area in maniera ottimale. Ottima soluzione anche per le società di vivere questa area in maniera ottimale. Ottima soluzione anche per le società di vivere questa area in maniera ottimale. Ottima soluzione anche per le società di vivere questa area in maniera ottimale. Ottima soluzione anche per le società di vivere questa area in maniera ottimale. Ottima soluzione anche per le società di vivere questa area in maniera ottimale.